. Paolo, chi viene, bello Manitou? è grande Manitou... due braci o un braccio? 2 Passa qua, si No Togliamo il cavalletto Si, mettiamo via questo, questo 2, viene dietro marcia e passa sotto perché devo alzare qua, se io vado indietro non riesco a prendere qua per alzare Non è tutto Non è tutto Ma non è tutto No, non è tutto No, non è tutto 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 Ma posso prendere le martedini? E io cosa faccio? Non è tutto Non è tutto Mi piace Il suo Mi piace Il suo Il suo Devo Il suo Il suo Il suo Il suo Il suo a 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